Ben ritrovati in questa freddissima serata qua al Savio, come vedete io ho la giacca perché la temperatura lo richiede per difendermi un po' dai rigori dell'inverno, ma sono comunque qua per i rompiscatole a romperle un pochettino. Al qua presente Leonardo Vastano che stasera è venuto qua al Savio giusto perché c'è un po' più fresco rispetto alle marche da dove lui proviene. Sì, infatti ho lasciato il cappotto in macchina, bisogna prenderlo. Se vuoi lasciar eventualmente ti posso aiutare. Ti ringrazio. Allora grazie per partecipare nonostante il freddo qua a questo gioco del rompiscatole, parto subito con le domande, spero che tu abbia studiato che sono domande al solito molto impegnative. Allora la prima domanda che ti faccio è questa, partiamo subito da Lippica. Se io ti parlo di Ambio, l'Ambio è un'andatura del cavallo oltre che siamo presenti anche in natura per l'animale, ma per quello che riguarda il nostro sport, è definito un'andatura di bipede trasversale, di bipede laterale, oppure di bipede bobe debù. Mi sa che è l'ultima, lo sai? Del resto voglio dirlo, lo sapevo. Io cerco sempre di indurvi nella domanda corretta, ma nel caso non fosse l'ultima, che è palese. No, nel caso non fosse. Il caso non fosse l'ultima. Ti chiedo di dirla proprio tu. Eh non ci riesco però. Quindi bipede bobe debù è la tua risposta quasi definita. Quando vedevo le giraffe da piccolo facevamo bipede bobe debù perché erano in Ambio. Perfetto, ok. Allora la seconda domanda invece che ti faccio è di cultura musicale, anzi cinematografica. Il film del 1983 di Arbore e Decrescenzo. FFSS cosa mi hai portato a fare sopra Posillipo se non mi vuoi più bene? Ti ho già messo molto in difficoltà? No, sono nato l'anno dopo però me lo ricordo il film. Forse l'ho girato io. Allora è un film in cui gli attori protagonisti principali sono Pippo, Pluto e Paperino. Sì o no? Ma immagino di no. Il commissario Basettoni? Qualcosa mi dice sto commissario eh. Però proviamo la terza. Oppure Decrescenzo? Ma non era Arbore? Arbore faceva il regista, non che sceneggiatore. E allora mi sa che era Pluto e Paperino. Pluto e Paperino. Molto bene. Quindi questa è la seconda domanda. La terza domanda invece è quella a sfondo musicale. Ok. Allora ci sono tante canzoni bellissime nel mondo della musica e non so se tu sei appassionato di una che si chiamava per esempio Raindrops Keep Falling on My Head. È la mia preferita. Esatto. Quante volte tu l'hai cantata nella tua vita? Questa è una domanda in cui veramente la risposta non c'è perché solo tu lo sai. Ti do le opzioni che tu mi hai comunicato prima. 50 volte sotto la doccia. 1246 volte mentre pioveva e tu correvi in pista. Oppure una volta sola ma come l'hai urlata forte quando hai preso la grandine mentre stavi in allenamento. sotto la grandine l'ho cantato. Ma forte. Puoi intonarcela? No guarda. È freddo ma ci vuole la grandine per intonarla. Allora Leonardo Vastano vince il gioco del rompiscatole. Grazie per essere stato ai nostri microfoni e perdona per tutto quello che hai sentito dire. Grazie comunque. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi.